Ok chiamo Dario. Dario non ha risposto. Chissà se risponderà alla chiamata da professore. Io lo aspetto mercoledì 13 marzo alle ore 14 a Unimore, facoltà di giurisprudenza. Non mi preoccupate perché in qualche modo riuscirò a farlo venire. Parleremo di tantissimi argomenti giuridici ma non solo. Ad esempio come è nato il progetto delle carte, dove entra il diritto e dove in qualche modo può aiutare. Questo e tanto altro ancora sarà discusso durante l'incontro con Dario Moccia. Se volete vedere gli estratti di video delle lezioni con Dario non vi resta altro che seguirmi.